oggi un confronto tra eco flow delta 2 max e blu et ac 200p vi dirò quali sono le differenze e le caratteristiche in modo da aiutarvi a scegliere senza condizionarvi farò semplicemente una comparativa ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi un video diverso dal solito perché non farò una recensione parleremo di power station ma voglio rispondere ad alcune domande perché in tantissimi vedendomi recensire tutte queste power station mi chiedete delle informazioni su quale sia la migliore in realtà una migliore non esiste esiste quella più adatta alle vostre esigenze oggi voglio partire con questo video facendo il confronto fra due prodotti che possiedo che somigliano di più e sono la blu et e la eco flow stiamo parlando di due prodotti che hanno 2000 watt ciascuno quindi diciamo allineati però che hanno delle particolarità delle contraddistinguono quindi per rispondere alle vostre domande faremo questo confronto imparziale non voglio denigrare nessuno dei due prodotti voglio semplicemente mettervi al corrente delle caratteristiche in modo a darvi la possibilità di scegliere non la migliore ma migliore per le vostre esigenze innanzitutto un dettaglio importante perché poi mi sfugge e che contraddistingue in modo fondamentale queste due parole stage nel fatto della eco flow abbia le ps in poche parole se va via la corrente in soli 30 millisecondi si attiva e sostituisce alla corrente che arriva da casa in modo da darvi la possibilità di mantenere attivi tutti quegli strumenti che hanno bisogno di un'alimentazione continua questa invece non la per il resto diciamo si somigliano hanno comunque delle particolarità sia estetiche che funzionali comunque anche di comodità e quindi voglio parlarvi di tutte queste cose mi sono preso degli appunti perché altrimenti qualcosa posso dimenticarlo quindi ogni tanto vi vedrete girare lo sguardo allora innanzitutto la eco flow a 2048 watt ora invece la bluetti 2001 praticamente uguali entrambe all'interno hanno le batterie litio ferrofato quindi le famose live po4 e sono delle batterie più nuove più sicure rispetto alle batterie al litio che garantiscono tantissimi cicli di ricarica una durata più lunga quindi nel tempo un utilizzo superiore rispetto alle batterie al litio che diciamo si usurano nella loro vita un pochettino più breve ma nonostante questa caratteristica comune la bluetti pesa 27 chili e mezzo invece la eco solo pesa 23 chili e si vede anche la dimensione più compatta questo a livello di maneggevolezza sicuramente è migliore per quanto riguarda la bluetti abbiamo sia le prese in corrente alternata per quanto riguarda la corrente continua vari comandi e il display nella parte frontale invece sulla eco flow ne abbiamo nella parte posteriore quindi nel caso specifico se io dovessi collegare una presa alla eco flow in questo caso per difficoltà raggiungerlo però diciamo è una cosa superabile utilizzando le entrambe sinceramente io collego le prese prima la lascio collegata la lascio nella sua postazione ed essendo più leggera di questa mi viene più facile eventualmente spostarla e inserire le prese questo non è un problema lo stesso per quanto riguarda la ricarica che nella parte posteriore quindi su questo però per quanto riguarda la ricarica abbiamo un alimentatore esterno e questo diciamo non è proprio il massimo perché vi costringe a trasportare sia la bluetti che il caricabatterie invece sulla eco flow abbiamo direttamente il cavo e possiamo ricaricarla con questo semplicissimo cavetto che mentre su questa andrebbe collegato all'alimentatore e poi l'alimentatore andrebbe collegato alla power station se lo dimentichiamo se dovesse danneggiarsi non abbiamo come ricaricarla a meno che noi utilizziamo i pannelli e parleremo anche di questo bene su quella bastare un cavo di questo tipo e si ricarica con molta semplicità quindi diciamo da questo punto di vista dovete tenere conto eventualmente di questa comodità considerando che comunque bluetti anche se ha le prese nella parte frontale però ne ha solamente due per quanto riguarda la corrente alternata invece la eco flow ne ha quattro e questo si può risolvere eventualmente utilizzando una ciabatta quindi il problema non si pone entrambe hanno una garanzia lunga la bluetti di quattro anni invece la eco flow di cinque anni quindi un anno in più che vi dà la sicurezza di avere assistenza eventualmente appunto la garanzia in caso di malfunzionamenti che personalmente finora comunque non ci sono mai verificati per quanto riguarda invece le prestazioni oltre ai kilowattora quindi l'autonomia abbiamo un picco di 4800 watt per entrambe quindi quando utilizziamo un utensile che alla partenza richiede un picco di energia per quanto riguarda questo fattore sono praticamente allineate la differenza è che la eco flow a 2400 watt invece la bluetti ne ha 2000 quindi su questo già è da preferire se avete bisogno di alimentare qualcosa che richiede un pochettino di più la eco flow altrimenti se dovete alimentare qualcosa fino a 2000 watt anche la bluetti va benissimo per entrambe comunque abbiamo 13 uscita perché quello che manca alla eco flow sono le ricariche wireless che sulla bluetti abbiamo sulla parte superiore quindi basta posizionare ben due telefonini nella parte superiore attivare la corrente continua e riusciamo ad avere la ricarica fino a 15 watt dei nostri dispositivi telefoni eccetera tutto ciò che si può ricaricare in modalità wireless però un'altra grande comodità che abbiamo a disposizione che ci dà la tecnologia è la possibilità di monitorare comandare eccetera le nostre power station tramite le applicazioni e questo ancora su questo modello della bluetti non è disponibile invece sulla eco flow abbiamo un sistema un mondo che ci si apre delle nostre applicazioni quindi riusciamo a gestire se abbiamo presente un micro inverter dei pannelli diverse batterie aggiuntive eccetera possiamo avere un quadro generale possiamo comandare attivare disattivare le varie porte quindi l'applicazione sicuramente che può funzionare in base ai modelli sia con bluetooth che con il wifi sicuramente è molto valida sulla bluetti personalmente possiedono solo questa e quindi su questa non c'è non posso parlarvi di eventuale applicazione non so nemmeno se esiste su altri modelli della bluetti mi documenterò mi documenterò al riguardo però io vi sto facendo un video sulla mia esperienza su quello che possiedo e su quello che può servirvi per decidere se acquistarle o meno quindi io devo esprimere esattamente su quello che ho davanti per quanto riguarda i cicli di ricarica avendo parlato delle batterie lì fatti o 4 abbiamo 3000 cicli per quanto riguarda la eco flow e 3500 per quanto riguarda la bluetti quindi da questo punto di vista diciamo vince la bluetti entrambe si possono ricaricare sia con la presa accendisigari dell'automobile si possono ricaricare anche con i pannelli solari o con la corrente di casa oppure combinando diverse funzioni quindi pannelli e corrente eccetera eccetera però la eco flow ci dà la possibilità di ricaricare con i pannelli fino a 1000 watt invece la bluetti si limita a 700 watt che non sono pochi comunque e per quanto riguarda invece i watt in uscita sempre tramite l'applicazione abbiamo la possibilità sulla eco flow di regolare l'ex boost quindi possiamo aumentare questa uscita e in caso di necessità portarla fino a 3.100 watt cosa che sulla bluetti rivedo su questo modello e non so sulle altre non è possibile fare quindi siamo limitati ai 2000 watt un altro vantaggio però della bluetti è fatto che le prese sono tutte coperte da questi coperchi e quindi abbiamo una protezione in più nel caso in cui ci sia il rischio di schizzi di acqua eccetera solitamente questi dispositivi che non vanno bagnati però nel caso in cui ci sia polvere durante il trasporto eccetera qua abbiamo comunque questa protezione su tutte le porte invece sulla eco flow questa protezione non l'abbiamo abbiamo sia le porte per quanto riguarda la corrente continua che per quanto riguarda la corrente alternata coperte bisogna fare attenzione durante il trasporto un altro punto visto appunto che ha tutto nella parte frontale anche se occupa un po più spazio per quanto riguarda la larghezza ma meno in profondità e avere tutti i comandi gestibili tramite questo pannellino la differenza però dalla eco flow è fatto che quella abbia tasti fisici e quindi ci dà la possibilità nel caso in cui stiamo indossando i guanti eccetera di attivare direttamente le varie porte io preferisco il comando fisico anziché il touch però il pannello della bluetti comunque funziona molto bene quindi è reattivo è accompagnato anche dal suono che ci dà il feedback del comando quindi per quanto riguarda funzionamento funziona bene è una preferenza mia personale avere il comando con il tasto fisico anziché il touch screen perché sono sicuro che anche al buio toccando riesco a individuare direttamente dove si trova invece qua devo andare a guardare con precisione e premere il tastino specifico per quanto riguarda invece la ricarica in corrente continua su questa abbiamo le uscite power delivery fino a 60 watt una sola uscita da questa parte invece abbiamo due uscite usb c tutte e due power delivery da 100 watt ciascuna quindi su questo dovete ricaricare oppure alimentare per esempio un computer mac eccetera che hanno bisogno di questo tipo di alimentazione con questa riuscite a farlo senza problemi per quanto riguarda l'utilizzo per esempio per chi vuole utilizzarla in roulotte e avere comunque un ambiente accogliente eccetera hanno come rumorosità diciamo super giù sono simili perché entrambe sono silenziose però la bluetti a 45 decibel che diciamo corrisponde ad un ambiente silenzioso diurno quindi con i rumori che provengono dall'esterno eccetera invece la eco flow a 30 decibel quindi sicuramente più silenziosa entrambe vanno bene non sono dei rumori insopportabili però diciamo questa piccola differenza dato che stiamo facendo questo confronto è giusto dirvelo anche se sono cose minime però dovete sapere che ci sia anche questa piccola differenza parlando di differenza ovviamente anche il prezzo ha delle differenze poi io sto dicendo i prezzi ufficiali prezzi di listino per quanto riguarda eventuali promozioni sconti eccetera eccetera questo poi da vedere sul web anche in base al periodo in cui guarderete questo video diciamo che però di listino la bluetti costa 1999 euro invece la eco flow costa 2.099 euro 100 euro in più però secondo me sono perfettamente allineate queste 100 euro in più può essere giustificato dal fatto che abbia questa connettività quindi l'applicazione che abbia un peso minore quindi ci sia uno studio maggiore per cercare di rendere tutto più compatto ma nel massimo della sicurezza e delle buone prestazioni invece sulla bluetti abbiamo queste dimensioni maggiori non c'è la connettività con il wifi con il bluetooth eccetera e quindi questa piccola differenza di prezzo entrambe funzionano bene ho deciso di confrontarle perché secondo me sono entrambe dei buoni prodotti però volevo darvi la possibilità di decidere grazie a queste informazioni quale delle due power station può andare meglio per voi considerando la comodità considerando la posizione delle prese considerando l'applicazione la possibilità di gestire eventualmente tramite l'applicazione tutte le varie funzioni che vi ho detto tra cui anche il tipo di ricarica la percentuale di ricarica deve raggiungere percentuale minima percentuale massima i 3.100 watt eccetera il cavo di ricarica che basta semplicemente un cavo per poterla ricaricare quindi tirandone secondo me quello di cui dovete tenere conto quando dovete scegliere tra questi due prodotti devono essere appunto le dimensioni la compattezza la posizione delle prese il costo ovviamente che praticamente simile la connettività che ci offre la eco flow questa purtroppo non l'ha ma questa le prese wireless però oltre avere le prese wireless quindi per poter ricaricare anche l'alimentatore che diciamo è un impiccio mentre su questa non c'è ci sono queste piccole differenze e poi il vantaggio effettivamente sulla eco flow di avere questa funzione che nel caso in cui ci sia un blackout se abbiamo degli strumenti stanno lavorando con la eco flow non si interrompono invece questa non possiamo utilizzarla come ps e questa funzione ci dà la possibilità di collegare la power station alla corrente elettrica che fa praticamente da ponte alimenta quello che deve alimentare senza utilizzare le batterie al suo interno nel caso in cui vada via la corrente interviene immediatamente utilizzando le batterie interne che si vanno scaricando quando torna la corrente continua ad alimentare quello che stava alimentando tramite la corrente di casa e nel frattempo si ricarica quando raggiunge la sua percentuale smette di ricaricarsi e comunque continua a fare da ponte alimentandole quindi come funzionamento effettivamente è utile queste sono tutte cose che dovete sapere perché se dovete scegliere una power station entrambe buone ma se dovete sceglierle io su questo mi sento di darvi dei consigli per quanto riguarda la riflessione che dovete fare sul prodotto scegliete voi io vi lascerò eventualmente i link che riesco a trovare vi lascerò eventuali offerte eccetera fatemi sapere quale vi piace di più fatemi sapere quale preferite e non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo mi invito ad iscrivervi nel mio canale mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione in su cliccate sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto